Pronto? Vi chiedo cortesemente di indossare le mascherine perché il luogo è abbastanza stretto, non per me, per tutti. Io la devo toglierla? Sì, sì, è certo, anche noi, altrimenti... Sì, sì. Bene, bene. Bene. Qui. Ceglie Messapica. Questa sera si presenta l'annuario 2019 di Cronache e Cronachette, scritto da Stefano Menga. Stefano Menga, possiamo dire che questo è il nono anno consecutivo, nove volumi che racchiudono la storia di Ceglie Messapica. Sì, questa è la non edizione. Il sito Cronache e Cronachette in realtà nasce nel 2010. Però poi il cartaceo parte dal 2011. Quindi la non edizione di storie di Cronache e Cronachette è la città di Ceglie Messapica. Ovviamente non è strettamente soltanto Ceglie Messapica, ma i cegliesi che si distingono anche sul territorio nazionale vengono menzionati sul libro. Ecco, infatti sfogliando il libro si vede anche la Bella Nova, insomma, i vari personaggi cegliesi che comunque vivono fuori. Certo, ho menzionato pure lei ovviamente, insomma, una cegliese che diventa ministra, non è che succede ogni giorno, succede ogni tanto. Diciamo che il mio intervento stasera sarà un brevissimo, breve se non brevissimo, perché Ceglie Messapica quest'anno affronta le amministrative. E siccome nel libro tante cose, insomma, riguardano l'amministrazione scorsa, non vorrei scontrarmi già in questa sede, in uno scontro politico, quando stasera è la presentazione di un libro che viaggia parallelamente alla vita amministrativa cegliese, ma è di tutti i cegliesi, non è una cosa politica. Ecco, quindi non è un volume politico, ma come è nata questa idea? Perché è abbastanza singolare, ma è anche utile, no? Perché comunque in nove volumi, questo è quello di quest'anno, o meglio, che racchiude lo scorso anno, 2019, però in un volume si può leggere tutta la storia di una città. È interessante come idea, da dove è nata? Allora io, ovviamente, come ti spiegavo prima, sono partito col sito su internet, Cronache e Cronachette, però poi mi rendevo conto che le notizie, man mano che uno le pubblica, poi scalano e vengono le nuove. Come nasce l'idea di fare un libro? Trovai una persona, uno storico, mi chiedeci la C, che forse sicuramente conoscerai, disse Stefano, perché di ciò che scrivi non fai un libro o un qualcosa? Perché non tutti amano avere Facebook o altro, il libro ha sempre il suo perché. Diciamo, la prima edizione è stata vista un po' così, però poi dopo nove edizioni, uno, perché io le pubblico, le notizie in ordine cronologico. Allora uno dice, nel 2015 a dicembre, cosa è successo? Vai a vedere il libro. Cosa che sarebbe assurdo andare a trovare la notizia sul blog. Diventerebbe un po' più complicato, così si semplifica il lavoro. Immagino anche di molti giornalisti, tipo quando è caduta l'amministrazione Caroli, ipotesi. Qui diventa facile vedere il periodo, il mese, il giorno esatto, velocemente. Diciamo che anche su internet se ne viene a capo, però ogni notizia ci vorrebbe del tempo. Invece sul cartaceo, uno va proprio sulla data. 20 ottobre, cosa è successo? Ovviamente le notizie più importanti. Chi sarà al tuo fianco seduto questa sera? Vedo quattro sedute, una è la tua, gli altri tre che ti saranno a fianco a brevissimo. Allora il presentatore e il moderatore della serata è Gianluca Greco, il caporedattore di Brindisi Report, che da tanti anni mi affianca nelle mie iniziative. Poi abbiamo il professor Marseglia, che è il presidente AEDE, un'associazione di docenti a livello europeo. E poi il nuovo preside della Giovanni Pasquoli, attualmente istituto preside palazzo. Bene, continuate a restare con noi perché saremo qui in diretta. Io ringrazio Stefano Menga, questo è il suo annuario 2019 di Cronache e Cronachette. Grazie, continuate a restare con noi. Grazie. 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 Buonasera, buonasera, un saluto a tutti. Grazie per essere qui numerosi in questa bellissima location, questa cornice del giardino-ristorante Montevicoli. È la prima volta che la presentazione dell'annuario di Stefano si svolge qui e devo dire che è una location davvero azzeccata. e dunque siamo qui un altro anno per presentare questa nuova opera di Stefano Menga, blogger di Ceglie Messapica che da cinque anni vive a Novedrate, vive lì con la famiglia dove lavora, ma nonostante la lontananza dalla sua terra, la natia, continua a tenersi aggiornato giorno per giorno su tutto quello che succede nella sua Ceglie Messapica attraverso il suo blog Cronache e Cronachette di Ceglie Messapica, è un blog che da 11 anni, giusto Stefano? Sì, il blog è online da 11 anni e dal 2011 poi c'è anche un'edizione cartacea di questo blog che è l'annuario, quindi un racconto in foto e in articoli di tutto quello che è successo nell'anno. Quest'anno l'edizione 2019 dell'annuario è di 256 pagine, chiaramente di facili letture, estremamente scorrevoli come sono sempre stati tutti gli annuari di Stefano Menga. In questa serata parleremo di questo annuario con due importanti ospiti, qui al mio fianco abbiamo il professor Silvano Marseglia che è il presidente europeo di Aede che sarebbe l'Associazione Europea degli Insegnanti, è un ente molto importante che ha rappresentanti in tutta Europa ma anche altrove, è una sezione anche qui in provincia di Brindisi che svolge delle attività molto importanti in ambito europeo per quella che è la professione degli insegnanti. E poi abbiamo il professor Gaetano Dabicco che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale, preside Lucia Palazzo. Quindi se Stefano è d'accordo io comincerei dando la parola al professor Marseglia. In continuità con le altre pubblicazioni di Stefano Menga, anche questo volume ha fondamentalmente per oggetto la nostra città, Ceglie, della cui cronaca si vuole rendere partecipe il lettore attraverso un viaggio attento per cogliere i significati più profondi di ogni avvenimento. Alcuni fatti, alcune notizie che compaiono in cronache e cronochette nel corso dell'anno restano solo temporaneamente nella nostra mente. Però spesso accade che compaiano notizie che ci attraggono in modo particolare, notizie che rivestono una particolare importanza per cui ci portano a ricostruire la storia della nostra Ceglie con richiami fatti ad episodi che testimoniano la realtà in movimento del nostro Paese. E' proprio a queste notizie che Menga dal largo spazio nel suo annuario per sottolinearne la maggiore importanza e per invitarci ad un'attenta riflessione. In effetti degli innumerevoli fatti di cronaca presentati nel corso dell'anno, Menga sceglie per il suo annuario quelli che meglio si prestano per realizzare un percorso attraverso la parola scritta, attraverso la cronaca che possa consentire un'operazione di riflessione su alcuni nodi essenziali che hanno cambiato il nostro Paese. Rientra in questo tipo di notizie la valorizzazione di gente originaria del nostro Comune che ha operato nel Comune o anche fuori. Parla di Domenico Strada, insignito del grado di generale di brigata dell'arma dei Carabinieri, l'ufficiale dell'arma Domenico Barletta, Cegliese, giunto al comando della sezione radiomobile a Brindisi, l'ingegnere Lorenzo Elia, comandante dei vigili del fuoco a Pesaro Urbino, Monsignor Gianfranco Gallone che celebra la sua prima messa da vescovo nella sua ceglie, l'intitolazione Monsignor Turrisi della piazzetta e della struttura sportiva di Via Daunia, la commemorazione di Angelo Petracca, il carabiniere che ha scritto con il suo sangue una pagina importante, una pagina senz'altro mirabile di eroismo e di sacrificio proprio nella nostra ceglie. Ho l'intitolazione del giardino del museo a Rita Mastantuono Santoro, l'avvocato Augusto Conte, relatore dell'interessante meeting cittadinanza universale organizzata dall'opera Bartolo Longo, Adele Galetta, la quale facciamo le condoglianze per la recentissima scomparsa del padre, eletta nel direttivo della stampa, la consegna al dottor Piero Santoro, direttore della Safim, del premio annuale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per la continuità nel fare impresa. Ho il cegliese Francesco Cardone che prende il premio internazionale di arte sul tema Mediterraneo frontiera di pace. E ancora l'attività per rendere la città più efficiente, qui c'entra l'azione dell'amministrazione comunale, la partecipazione alla BIT a Milano, il potenziamento dei punti di informazione turistica, l'installazione delle panchine intelligenti, la scuola di gastronomia che cambia volto, cambia denominazione, il coinvolgimento di numerose scuole della provincia per la realizzazione della festa dell'Europa presso il teatro comunale. E poi una cosa molto simpatica, Stefano a un certo punto parla anche di sé nel volume, parla di sé e parla della sua attività a Nove Drate dove ha pubblicato due libri dedicati ad un'impresa familiare che da molti anni gestisce un'impresa lì a Nove Drate ed egli ribadisce la sua passione per la cronaca, tenete presente che ha cominciato a lavorare con cronaca e cronachette nel 2011 a Ceglie, non ha perso il vizio, è andato a Nove Drate ed è partito con un altro blog Nove Drate ed intorno. Tutto ciò che ci dice Stefano sono delle cornici ricche di significato per la cronaca cegliese recente e Stefano, storico del presente come ogni giornalista e la definizione non è mia e di Umberto Eco, cronista di razza, li rivive e ce li fa rivivere con il suo annuario 2019 dal forte taglio narrativo nel quale proprio a partire da quei posti, a partire da quei fatti di cronaca è possibile rintracciare un filo rosso sul cambiamento del nostro costume, sul cambiamento del nostro modo di vivere e vedere la realtà che ci circonda. L'annuario presenta una sintetica raccolta degli avvenimenti registrati nel 2019, dalla politica alla cronaca, dallo sport alle manifestazioni culturali. Va ricordato in modo particolare la presenza a Ceglie il 27 settembre del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conti, ad opera di affari italiani, abbiamo qui l'amico Perrino, per partecipare all'edizione straordinaria della piazza, intervenendo sui principali fatti di politica nazionale ed internazionale e questo evento fu preceduto dalla visita che Conte fece all'ospedale di alta specialità San Raffaele. L'annuario di Menga non è un saggio e non vuole essere tale, non è esaustivo sui momenti più interessanti e meno esplorati del nostro Paese e non ha nemmeno la pretesa di esserlo. L'annuario non è nemmeno un testo di storia ma è uno strumento per non dimenticare gli avvenimenti che si sono verificati sul territorio e dei quali inolenti o volenti siamo stati tutti protagonisti coscienti o spettatori distratti. Questo lavoro è il diario delle storie della nostra comunità, tristi o liete che siano, sconcertanti o esaltanti, storie vere ed autentiche. In un modo o nell'altro sono tutti coinvolti, principalmente i cittadini, i lavoratori, gli insegnanti, gli alunni e a proposito degli alunni sono numerosi riferimenti ai loro impegni nello studio e in altre attività parascolastiche e ludiche. Vi è racchiusa in sostanza la vita e le attività delle associazioni, dei movimenti, delle varie attività culturali, teatrali, sportive e un insieme di fatti e notizie connesse dallo scorrere del tempo che sollecitano comunque riflessioni, ricordi, dubbi, sfoghi, ritratti, racconti e che richiamano frammenti di vita. È un diario di bordo, un condensato di vita, un viaggio non organizzato che scorre attraverso il tempo di un anno, richiamando la vita, gli avvenimenti del nostro paese. Quella cronaca, quei fatti, Menga li ha fatti i suoi, li porta a noi in un racconto che ci ha già conquistati perché desiderosi di leggere di una città in evoluzione, forte, complessa, ma bella e ostinata. Il volume rappresenta in sostanza un articolato ritratto della nostra ceglie, della sua evoluzione. Si configura come una ricca e dettagliata raccolta di informazioni che richiamano varie aree tematiche caratterizzanti la vita pubblica del paese, l'ambiente, il territorio, la popolazione, l'istruzione, il lavoro, il quadro economico, il tessuto produttivo, l'offerta di servizi, il benessere dei cittadini, la cultura. Ricostruisce storia dopo storia i fatti che hanno segnato la vita dell'intera comunità per mezzo di fotografie, di testimonianze. Quindi lo scopo dell'annuario è appunto quello di far rivivere le tappe che hanno caratterizzato la vita della nostra città. La presentazione delle numerose manifestazioni legate alla cultura, alle tradizioni, ai beni paesaggistici del territorio caratterizzano storicamente la città attraverso un percorso tematico che contribuisce a rendere la nostra ceglie come un luogo da scoprire in ogni periodo dell'anno. Possiamo individuare nel volume, ad esempio, un filo conduttore legato al patrimonio culturale ed immateriale della nostra ceglie. Potremo annoverare tra i beni storici la realizzazione del Salone dei Sindaci nel Castello Ducale per rendere omaggio e dare giusto riconoscimento alla figura dei primi cittadini di Ceglie dal 1800 ad oggi. La valorizzazione del patrimonio religioso, storico, culturale come l'illuminazione della chiesa di San Rocco, del teatro comunale, la realizzazione dei ponteggi per i lavori della torre del Castello e l'avvio degli stessi lavori, la riqualificazione di numerose aree urbane. E poi, per quanto riguarda l'attività culturale e formativa, tutta l'attività che si è svolta nelle varie scuole, gli incontri sulla cultura della legalità, la borsa di studio dottor Michele Caliandro assegnato allo studente Ignazio Bellanova, la presentazione del giornalino della Vinci, il progetto di continuità tra la scuola di Amicis e la Pascoli, gli alunni della media Vinci, campioni di logica, intuizione e fantasia attraverso le Olimpiadi di matematica, la celebrazione della giornata dei diritti dell'infanzia, il concerto natalizio della scuola di primo grado Pascoli, la premiazione di poesia religiosa come appuntamento consolidato ad opera della parrocchia San Lorenzo e poi i vari rappresentanti europei ed extraeuropei presenti in città che hanno fatto visita al comune rendendo omaggio al sindaco, all'amministrazione comunale come la visita dei professori dell'università di Atene, la visita dei professori dell'università europea di Scopia in Macedonia, il console degli Stati Uniti e poi una cosa molto molto bella che trovo nel volume è il richiamo alle tradizioni locali, quindi la tradizione per esempio come la benedizione delle spighe di grano portate con i cavalli degli agricoltori presso la chiesa matrice della città per la benedizione in occasione della festa di Sant'Antonio e ancora sempre tra le tradizioni, tra l'impegno religioso e il convegno degli amici di San Rocco che ha visto a ceglie quattromila presenze come secondo un'antica tradizione la consegna delle chiavi da parte del primo cittadino alla statua di Sant'Antonio e sull'impegno culturale e politico ricordiamo ancora la presenza di tanti big della politica sempre nella manifestazione La Piazza promossa da affari italiani con la presenza di rappresentanti delle espressioni politiche più diverse e sono state espresse parole di soddisfazione anche da parte del sindaco sulla realizzazione di queste manifestazioni e ancora abbiamo l'impegno di gente di ceglie al di fuori del territorio come Teresa Bellanova nominato ministro dell'agricoltura nel governo Conte, Don Martino Gioia cegliese parroco a Sava, la petrolmenga che continua ad inaugurare nuovi impianti dopo aver ristrutturato i vari impianti acquisiti nelle zone più diverse della nostra provincia ed ancora la petrolmenga che si classifica tra le prime 200 aziende pugliesi per il maggiore fatturato nel 2018 e poi l'attività di Monsignor Gianfranco Gallone tutto l'annuario è pieno delle immagini di Monsignor Gianfranco Gallone l'annunzio nello Zambia lo vediamo al centro madre di Teresa di Calcutta lo vediamo delle varie manifestazioni religiose lo vediamo all'USACA quando inaugura dei padiglioni per i bambini di strada lo vediamo quando diventa anche annunzio delle Malawi e consegna al presidente delle Malawi le credenziali come annunzio di quel paese e poi come cultura popolare, folklore, attività turistica dobbiamo ricordare il festivale estivo che nel 2019 ha avuto come tema quello della libertà in tutte le sue forme espressive ed artistiche e ha visto la partecipazione del gruppo musicale molto famoso gruppo londinese dei Muciba e ha visto la partecipazione anche di Arisa artista molto apprezzata e seguita e Menga analizza il percorso di questo progetto dalla sua nascita nel 1216 evidenziandone l'importanza nel favorire la promozione turistica della città e ancora la musica nei vicoli del centro storico nell'ultima decade di agosto come chiusura dell'estate ma una cosa molto simpatica anche questa perché ci riporta le tradizioni di Ceglie i festeggiamenti per i giovedì di settembre e questa è una tradizione particolarmente sentita dagli abitanti di Ceglie e Stefano la riprende nel suo annuario, è un'usanza ereditata dal passato che appartiene solo al popolo di Ceglie la tradizione dice che il primo giovedì era dedicato alle donne, secondo giovedì agli amici e così via per arrivare all'ultimo giovedì, forse quello più importante, che era dedicato alle promesse ognuno prometteva di essere più disponibile verso gli altri per il futuro e poi l'enogastronomia, viene ricordato l'undicesima edizione del Food Festival che ha avuto come madrina Anna Falchi, il ristorante al fornello da Ricci che vede confermata una stella Michelin e arriviamo poi all'ultima parte del libro quando al mese di ottobre e a partire dal mese di ottobre trovano largo spazio nel volume gli avvenimenti legati alla crisi amministrativa con la sfiducia messa in atto da nove consiglieri nei confronti del sindaco Caroli dando vita così con diversi mesi di anticipo alla interruzione del suo mandato amministrativo iniziato nel 2010 Sarà lo stesso Caroli a passare le consegne al commissario prefettizio e sarà proprio il commissario prefettizio, la dottoressa Pasqua Erminia Cicoria un mese dopo il suo insediamento a dare ampie rassicurazioni di regolarità sul piano economico Sabato 28 novembre, siamo sempre al 2019 ovviamente dopo circa due mesi dalla fine anticipata dell'amministrazione viene dedicata una serata per fare il bilancio delle cose fatte e degli obiettivi da raggiungere per il futuro dagli articoli riportati emerge chiaramente che Caroli ha espresso viva soddisfazione per quanto è stato fatto ed esprime fiducia che quel progetto possa essere continuato nel futuro questi concetti vengono ripresi dallo stesso Caroli nel saluto alla città nel quale ripercorre le tappe del cammino che lo ha visto Sindaco dal febbraio 2010 quando accettò la candidatura al 2015 quando alla conclusione del primo mandato fu riconfermato per il secondo mandato fino alla sfiducia dell'ottobre 2019 attraverso gli articoli evidenziati da Menga emerge la convinzione di Caroli che la città si trovi oggi in una situazione migliore di quanto non fosse nel 2010 all'inizio del suo mandato tra l'altro mi permetto di anticiparmi e non me ne volere Stefano se svelo forse un segreto perché non è un segreto possiamo annunciarlo Stefano ha già realizzato un volume nel quale raccolta sempre in maniera cronachistica la storia dei nove anni dell'attività amministrativa del Sindaco Caroli e credo che abbia intenzione di presentarlo a breve oggi quando sembra che non ci sia tempo quando un titolo sembra sufficiente per avere contezza di ciò che è accaduto oggi in un momento in cui l'assenza di riflessione determina l'incapacità reale tangibile di comprendere ciò che accade Stefano Menga come storico del presente avverte anche il dovere di fermarsi e riflettere e nello stesso tempo di invitarci a riflettere su ciò di cui è stato testimone richiamando le notizie con approfondimenti e verifiche affronta i temi con un metodo cronachistico di analisi il più possibile oggettivo e svolge un ruolo di informazione e di promozione culturale cronaca, storie, analisi, opinioni, notizie bellissime e notizie molto tristi nel bene e nel male cerca di dare voce ai fatti di questo nostro territorio cercando di riportare sempre con puntualità ciò che non è andato e con grande gioia le belle notizie che hanno costellato il 2019 questo libro ha un valore fondamentale in quanto pochi raccontano la storia locale è un libro coraggioso lo scrive col cuore proprio come chi è profondamente appassionato della sua terra d'origine lo fa per amore della propria comunità per amore della terra in cui si è nati, cresciuti e si desidera vivere lo fa con ferma volontà di lasciare una testimonianza ai più giovani i giovani non devono essere oggetti passivi di informazione che arriva da altri ma devono sentirsi protagonisti sappiamo bene che commettere l'errore di far cadere nell'oblio quanto è successo non raccontarlo ai più giovani significa formare cittadini anonimi che poco o nulla sanno del posto dove vivono e che quindi molto facilmente saranno indotti a disinteressarsene è importante ricordare sempre il passato perché il passato è un prologo e da esso possiamo trarre insegnamenti per il presente con il passare del tempo ciò che è la cronaca la storia della propria comunità le tradizioni i personaggi che caratterizzano il territorio vanno ad affievolirsi con il lavoro di Stefano Menga vengono messe le basi perché quanto è successo non venga dimenticato grazie 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 a professor Marseglia per il suo intervento il professore ha definito Stefano ha definito Stefano un cronista di razza è un'espressione che mi piace molto e che sottoscrivo in pieno perché Stefano è un punto di riferimento fondamentale per tutti i cronisti e corrispondenti del territorio a partire dal sottoscritto il lavoro per Bindisi Report e quando succede qualcosa c'è lui messa apica fa la telefonata mandi messaggio a Stefano Menga e sai che la notizia in qualche modo esce nonostante viva a nove drate a più di mille chilometri dalla sua terra quindi è veramente un cronista di razza allora adesso il piacere di passare la parola al professor Silvano Marseglia credo scusa al professor Gaetano da Bicco che fra l'altro insomma la sua è anche una presentazione alla comunità perché da poco è stato nominato dirigente della scuola Preside Lucia Palazzo dell'istituto comprensivo allora si dirigente esatto quindi a lei grazie allora buonasera a tutti innanzitutto volevo ringraziare Stefano Menga la sua 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 Fanno riferimento anche a tutte quelle iniziative che in qualche modo mettono in luce i cittadini al di fuori della realtà cegliese e tutto quello che fanno anche in situazioni ad esempio all'estero o al di fuori comunque della Puglia e del territorio stesso. Questi eventi poi culminano in qualche modo nella pubblicazione dell'annuario cartaceo e volevo sottolineare soprattutto che in quanto operatore della scuola sono molto colpito da questa duplice modalità comunicativa tanto appunto una modalità che ormai incontra quelle che sono le esigenze del presente per cui una modalità online all'interno di una realtà che è caratterizzata in maniera precipua dalla pervasività della tecnologia tanto nello stesso tempo anche nella forma cartacea che comunque rappresenta un patrimonio da preservare che noi operatori della scuola ovviamente continuiamo a propugnare ai nostri studenti e quindi questa duplice modalità si attaglia in maniera particolare anche a quella che è la realtà che generalmente io frequento ecco come operatore della scuola. Inoltre volevo sottolineare anche come all'interno dell'annuario il mio breve intervento si focalizzerà soprattutto sull'attenzione che nell'annuario ma in genere anche nel blog è dedicato al settore dell'istruzione, della formazione e al settore scolastico. Nella convinzione credo che in qualche modo l'istruzione, la formazione, la scuola rappresentino necessariamente il motore propulsivo per la crescita di una comunità questo rappresenta senz'altro un tema come dire assolutamente cogente, assolutamente attuale che trova modo di avere molto riscontro nella nostra realtà. In particolar modo sempre in riferimento a questo duplice canale informativo volevo sottolineare anche come noi nella scuola siamo abituati ormai a questo e all'interno per esempio dell'annuario di Stefano Menga una pagina molto importante dedicata alla cultura della legalità e all'uso dei social appunto del 12 aprile nella quale le realtà scolastiche e istituzionali sono particolarmente coinvolte. Sappiamo bene infatti come sia assolutamente facile ovviamente utilizzare i canali comunicativi ma utilizzarli bene non risulta affatto facile, è necessaria una cultura specifica che le scuole appunto promuovono mediante iniziative legate ad esempio ai fenomeni di bullismo di cyberbullismo e di tutto quello che può rappresentare il pericolo all'interno della rete. Quindi volevo soprattutto sottolineare come dire questa pagina che mi ha colpito in maniera particolare ma l'annuario è molto ricco di tutte quelle iniziative che riguardano ripeto le attività delle scuole cegliesi e anche il modo in cui gli studenti di Ceglie molto spesso si sono distinti in attività scolastiche o parascolastiche anche fuori. Anche io voglio citare i giochi matematici che sono stati organizzati dalla Bocconi e dove diversi studenti cegliesi sono stati ammessi alle finali e ancora soprattutto la giornata della memoria che ogni anno e anche l'anno passato ha visto il coinvolgimento degli istituti in particolar modo in questo caso anche dell'istituto comprensivo presi dell'UCEA Palazzo dove c'è stato un progetto di continuità che ha coinvolto le classi quinte e le classi terze le classi quinte della primaria e le terze della scuola secondaria nella convinzione ricollegandomi appunto al discorso del collega che la memoria va preservata e quindi è fondamentale non cancellare tutto quello che rappresenta il nostro passato in maniera come dire forte nell'annuario viene anche citata tra l'altro in maniera molto dettagliata la legge che ha istituito la giornata della memoria la legge 211 del 2000 e questa è ancora una volta la testimonianza dell'attenzione che l'annuario dedica alla parte culturale, alla parte anche istituzionale se vogliamo normativa ancora diverse pagine sono dedicate poi al progetto Euroscuola progetto Euroscuola che rappresenta una prestigiosa attività dedicata agli studenti per conoscere quello che è il ruolo del parlamento europeo e gli studenti come ben sapete all'interno di questa iniziativa fingono di ricoprire il ruolo di deputati è un progetto di ampio respiro che ha avuto anche modo ecco di diffondersi e che è stato accolto molto positivamente anche dalle nostre scuole e infatti diciamo sempre all'interno di questo contesto possiamo citare la festa dell'Europa conclusasi con la premiazione di alcuni alunni sempre cegliesi distintisi nel concorso ambasciatori d'Europa ancora l'annuario ricorda altre iniziative io ripeto nel mio intervento mi sono focalizzato soprattutto su queste sempre appunto delle scuole cegliesi e in particolar modo di un progetto Raffaello in Minecraft che si è svolto a giugno dello scorso anno dove alcuni studenti hanno ricostruito quelle che sono le tappe salienti del lavoro del pittore Raffaello Sanzio anche attraverso strumenti digitali e qui ancora una volta ritorno su quello che vuole essere in qualche modo il filo conduttore, il filo rosso del mio intervento cioè questo assoluto collegamento questo assoluto legame che deve esserci tra la realtà digitale e la realtà ovviamente cartacea nell'ambito della formazione culturale ricordo che ormai anche tutte le nostre scuole sono abituate ad avere un piano dell'offerta formativa tanto in formato cartaceo quanto in formato digitale ed è lo stesso concept se vogliamo che è alla base del libro di Menga e inoltre volevo anche io fare menzione alla giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dove il secondo istituto comprensivo ha ricevuto il premio Scuola Amica di UNICEF e come dire il tema dell'infanzia è un tema particolarmente caro perché mi rendo conto che molto spesso nella nostra attenzione siamo più portati a dare importanza agli altri ordini di scuola sulla base del fatto che l'infanzia non è obbligatorio ma invece come appunto è sottolineato nel libro in qualche modo l'infanzia rappresenta il primo gradino per cui è necessario porre una maggiore cura attentiva a questo infine appunto l'annuario si conclude sempre nell'ambito delle iniziative di carattere scolastico con il concerto a sorpresa del nostro istituto che ha come dire sancito la fine dell'anno solare scorso dell'anno 2019 un progetto dove appunto nell'annuario si fa molto riferimento alla questione della continuità nell'idea appunto che l'istruzione attualmente non può più essere parcellizzata ma deve assolutamente porsi senza soluzione di continuità io finisco qui perché ripeto il mio intervento era piuttosto breve voleva focalizzarsi sugli aspetti formativi e culturali presenti nell'annuario grazie 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 mille al professor Dabicco per il suo intervento una cosa importante dobbiamo ricordare che questa iniziativa si svolge in collaborazione con l'associazione culturale MITAFFET di Ceglie Messapica che è qui dei rappresentanti sono i ragazzi tutti schierati sono dietro nelle retrovie sono nelle retrovie e adesso possiamo passare al protagonista della serata che è Stefano Menga il professor Marselli ha già tracciato una bibliografia di Stefano però prima di passargli la parola volevo un attimo ricordare quali sono le sue opere sono davvero tante sappiamo del blog Cronache e Cronachette come abbiamo detto prima online da dieci anni che dal 2011 poi si trasforma ogni anno in un annuario poi lui si è trasferito a Nove Drate e anche lì ha dato vita a un altro blog in cui segue quotidianamente i fatti del territorio il blog è Nove Drate e dintorni e poi ci sono numerose pubblicazioni che ora vi elenco Monsignor Giovanni Turrisi cenni storici e fotografici sulla sua vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi poi Cronaca di un atto d'amore che è un libro dedicato al carabiniere Angelo Petracca è stato realizzato nel ventinquesimo all'iversario della sua tragica scomparsa durante una rapina qui nel centro di Ceglie Messapica poi un'altra opera molto importante che è stata presentata l'anno scorso La speranza di vivere dedicata alla memoria dell'avvocato Pietro Allegretti una raccolta di poesie che erano inedite dell'avvocato poi ancora un libro che riguarda Nove Drate in particolar modo Nove Drate attraverso i tuoi occhi che è un'opera che è anche un tributo al sindaco Maurizio Barni sindaco di Nove Drate che è scomparso prematuramente sempre restando nell'ambito di Nove Drate va citato il libro Cinque fratelli e una sola storia che parla dei fratelli Bettio e della loro attività imprenditoriale una famiglia di successo nel ramo imprenditoriale lì a Nove Drate poi il professor Marseglie ha parlato di un'opera che è di imminente pubblicazione Stefano? si è già pubblicata si tratta solo di presentarla ok perfetto l'opera è Luigi Caroli un bene in comune che ripercorre i dieci anni amministrativi del sindaco Luigi Caroli e poi c'è la festa dei 50 anni di Lattone Dil che è un'ulteriore pubblicazione conclusiva dedicata sempre alla famiglia Bettio e alla loro festa per i 50 anni della loro azienda quindi adesso abbiamo parlato anche troppo non mi resta che dare la parola a Stefano Menga che ci parlerà di questo annuario del 2019 Stefano a te grazie Gianluca grazie a tutti per la vostra presenza ringrazio il professor Silvano Marseglia che ha relazionato così come il professor Gaetano D'Ambicco volevo fare una piccola premessa collegandomi alla notizia che ha dato il professor Marseglia riguardante i giovedì di settembre come tutti sapete sia Ceglie Messapi che la regione Puglia affronteranno anzi sono già in campagna affronteranno sia le amministrative per Ceglie e sia le regionali si vota il 20 e 21 settembre quindi c'è stato una guerra a Ceglie perché volevano addirittura fare un comitato perché a settembre tu al Cegliese puoi togliere tutto ma non i giovedì di settembre diciamo che questa è una cosa carina non ce l'abbiamo fatto si vota il 20 e 21 nonostante menzionata l'amministrazione comunale in questo annuario volutamente non tratterò l'argomento perché come dicevo ci sono le amministrative e non vorrei che già in questa sede qualche competitor dell'altra parte insomma contro la vecchia amministrazione uscente si scatene già una combotta elettorale già qua siccome l'annuario tratta argomenti sì dell'amministrazione comunale in atto ma così anche di tanti cegliesi le due copertine io da quattro edizioni faccio diventare copertina due argomenti che io ritengo le più importanti notizie che si sono verificate nell'anno descrittivo la quarta di copertina questo l'ho fatta all'ultimo minuto perché il Ceglie Food Festival è una manifestazione di punta dell'amministrazione cegliese e quest'anno a causa delle restrizioni sanitarie per il covid non si svolgerà non certo per colpa della commissaria attuale ma sono delle direttive nazionali perché è una manifestazione di punta come dicevo che si ritrovano dentro Ceglie in quei tre giorni qualcosa come 70-80 mila presenze non è uno scherzo monitorarli e condigentarli tutte queste persone insomma quindi è stata sospesa ho voluto ricordarlo con una copertina la prima di copertina invece l'ho voluta dedicare pure qua bisogna fare delle scelte perché già il libro annuario sono delle notizie più importanti che io riporto sul blog però la copertina purtroppo è una non posso fare dieci copertine quindi mi trovo a scegliere ho scelto che pure un amico Monsignor Gianfranco Gallone che è stato nominato nel 2019 arcivesco adesso si trova in Zambia sempre pure là per le restrizioni sanitarie non può raggiungere la nostra Ceglie Messapica e quindi nemmeno non possiamo avere l'onore di averlo qua presente quest'anno mi sono ripromesso certo trofei coppe non ne posso dare però posso donare un libro simbolicamente a quattro situazioni che io ritengo più importanti per il 2019 ovviamente la prima diciamo copia omaggio la vorrevo donare Monsignor Gianfranco Gallone non essendo presente ci sta un suo delegato che quando me l'ha detto sinceramente Monsignor Gianfranco Gallone ho detto non hai un piano B perché l'ho già sopportato tre anni alle scuole medie me lo fai ritrovare pure qua è Mimmo Roma che chiamo qua è uno dei più bravi artigiani di Ceglie ecco poi lo consegni tu grazie Mimmo ciao allora per soltanto il 2019 un imprenditore cegliese ha rilevato quattro impianti di distributori di carburanti è stato premiato come eccellenza sempre nell'ambito nell'ambito imprenditoriale dall'amministrazione comunale come eccellenza cegliese in più è tra le prime cento aziende con maggior fatturato della Puglia ci sono migliaia di aziende in Puglia quindi non è uno scherzo a capo di questa società sono un gruppo di fratelli qua è presente Rocco Meng al quale voglio donare una copia omaggio Sì Stefano sono onorato di questo complimento e sopporterò sempre le tue richieste anche per la pubblicazione di questo perché sono veramente onorato non ho altro da aggiungere perché è tanto grazie come lui diceva Rocco a volte di essere un abile imprenditore quando io mi presento da lui lui non mi dice niente dice tranquillo perché anche nelle mie iniziative editoriali ci sono degli sponsor io posso mettere il mio impegno il mio lavoro gratuitamente però per stampare un libro ci sono dei costi e fortunatamente ci sono amici come Rocco come tanti altri che mi danno un supporto economico nella stampa poi un'altra eccellenza cegliese è il dottor Piero Santoro insomma lui è stato il primo manager in Italia con la sua azienda la Safi MSPA lui è cegliese autentico quindi essere premiato su 5600 aziende essere lui il primo manager è un traguardo che non si raggiunge da oggi a domani è un ragazzo veramente abile in questo perché è stato premiato dalla Bocconi non certo da Stefano Menga quindi un comitato qualificato che ha premiato e qui il papà perché lui aveva degli impegni lavorativi e qui il papà che consegna a lui la copia grazie Stefano per l'interessamento mio figlio si scusa per non essere presente in quanto aveva già preso impegni precedentemente grazie il quarto volume lo devo donare dopo 36 anni di onorato servizio si è congedato con il grado di generale dei carabinieri è uno dei massimi gradi dell'arma dei carabinieri a noi ci fa doppio onore perché lui è Domenico Strada ed è cegliese autentico pure lui che chiamo qui per la donazione di un volume buonasera a tutti mi ha fatto molto piacere quando Stefano Menga mi ha chiamato per comunicarmi che il mio pensionamento che non è un evento storico penso sarebbe entrato a far parte di questa di questa bella pubblicazione che seguo tutti gli anni io ho sempre mantenuto vivo il rapporto con Ceglie vi svelo un segreto che non è manco militare due mie figlie sono nate a Ceglie a seguito di strenue trattative condotte con mia moglie che non è cegliese quindi sono riuscito a farla arrivare col panzone a Ceglie la terza purtroppo è dovuta nascere a Firenze perché nel frattempo mi è sparito il reparto di maternità a Ceglie ringrazio di nuovo Stefano Menga per questa cosa che mi dà diciamo una soddisfazione a chiusura della mia carriera che il mio paese si sia ricordato di me grazie l'ho detto in premessa che sarei stato breve e mantengo i miei patti con voi chiudo questa serata con un amico il figlio il mio compare lo chiudo con una poesia che è stata pure vincitrice di un concorso fatto lo scorso anno in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la parrocchia di San Lorenzo questa poesia è dedicata ad un buon Natale io la voglio estendere perché in questo periodo ci siamo trovati tutti in un periodo difficile chi per lavoro chi per il covid chi per altro sia a Ceglie sia la regione Puglia che tutta la nazione ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione nuova per tutti quindi questa poesia che farò recitare da il mio amico Danilo Belanova e non è soltanto anche se il titolo è solo un buon Natale è un buon tutto e una buona vita per tutti vieni Danilo Buonasera ringrazio Stefano per l'invito Buon Natale a casa mia Buon Natale a tutti i cegli cegli a nuovi e cegli a vecchi ci mi ha passato bene questo Natale o mi ha passato particolare Buon Natale a città in amore Buon Natale con tutto il cuore Natale è una festa più bella e per forza mi ha rito che ci vuole fare anche così la vita l'altro giorno delle giornate anche visto la guerra con l'arsenale ma gli dico sti poveri con nessuno o non merito tutto gli volevo dicevi pensa alla salute e cambia idea a questo paese stiamo tutti buoni e stiamo tutti con sorrisi a qua a me pure stanno di Natale la vita nostra è tutta pace e amore c'è chi può il proprio felice è la città di Coromia noi diciamo sì nella vita e speriamo che pure l'altro pensano come noi è una poesia in dialetto cegliese il professor D'Ambicco e Gianluca Greco diciamo il tutto non l'hanno recepita però è stata chiara è universale il cegliese come dice giustamente l'avvocato Conte grazie a tutti e buona serata oltre a buon Natale e buon tutto grazie c'è un piccolo aperitivo ecco grazie a tutti